buongiorno a tutti scusate ma sono un po così sono anche di fretta volevo farvi vedere allora quattro pensibini che ho comprato e ho finito i regali di datare sono contentissimo vabbè e parto subito allora intanto l'unica cosa per me che ho comprato è questa allora da primark dicevo mi mancavano proprio due pensieri da primark appunto allora intanto per me il gioco che ho scritto per me è questa questa maschera refrigerante per occhi insomma è sì una scritta per occhi in gel io ho letto una cosa carina love who you are dopo arrivo vado a vedere è di mini mouse vabbè non mi interessa non c'è problema pagata 3 euro l'avevo appena vista da tigota una cosa proprio così giusto c'erano due colori nulla di che 5 euro meno che non l'ho presa lì e troppo bellina l'ho già provata ieri sera l'ho già messa l'ho già usata insomma anche se qua c'è scritto non mettermi in freezer io l'ho messa in frigo però vabbè è troppo bella e questo è per me poi allora siccome una mia vecina ha avuto la bimba allora il regalo io non l'ho già comprato però mi sembrava poco tipo vabbè ho visto delle stelline con i nomi e le frasi nelle solite cavine non l'ho comprato mai stavo andando via io vabbè ci ritorno vado a vedere il nome suo non c'era più però ho tolto questa questa vabbè è generica si uno dice la può anche riciclare vabbè punta sempre alle stelle per brillare nella vita è carina è proprio spessa questa pagata più del regalo non è vero 6 euro sì poi cercavo le agente ma non c'era più e anzi poi vi dico poi ho trovato giusto vabbè neanche mamma so che deve fare dei pensieri questi diffusori sono 30 ml questo è alla questo è non so bosco foresta deve davvero dal disegno poi ho preso questo che è peonia tutto è quest'altro che è cotto ok pagati 80 centesimi vabbè giusto per un pensierino così sembravano carini e poi siccome appunto dicevo cercavo le agente vabbè mi fa guarda qua non c'è di più e va per me e mia madre va in là nel reparto reparto vegani insomma magari c'è qualcosa magari stai quelle con la gente da più penna vado a vedere porca miseria devo fare due devo fare due pensierini di numero cosa trovo queste bellissime tazze maghe con i kit insomma per il c'erano anche andando in fila la casa però erano quelle grandi non mi sembrava il caso questo invece cosa c'è scritto qua nulla spiega vabbè alle epigeni e niente quindi queste due troppo carini poi questo bel colore mi piace tantissimo piace anche a me infatti però no e nulla liscio qui sotto è un po qui sotto sembra più grezza però nulla insomma preva limited co caffè tostato niente vabbè insomma 7 euro c'è anche quadro e quindi nulla e poi mi ha dato appunto per una maldica somma di 80 centesimi così ho fatto cifra tonda e questa bellissima postettina insomma che infatti avevo già pagato uno poi dopo ho visto le tazze poi stavamo salendo io e mio compagno e ho detto dopo torno a prendere quelle siamo tornati giù subito e niente nulla e abbiamo mostrato così tutto perché non ho preso nulla nulla ho visto una pellicetta bellissima al mercato ho visto un paio di scappe sapete i mocassini con l'acqua altissima che vanno di moda aria sotto a pitta rosso e lì potrei tornarci sì e se no aspetto i saldi e nulla io vi amo saluto scusate sono di fretta vi ringrazio ci vediamo in un prossimo video buona giornata